grande fratello anita olivieri e letizia petris accordo segreto per eliminare per la vatiero e torniamo a parlarvi del grande fratello con anita olivieri e letizia petris che stanno facendo arrabbiare e non poco i fans del grande fratello in particolare i perletti già sembra strano a dirlo ma a quanto pare al grande fratello sta succedendo qualcosa di non assolutamente aspettato ma che soprattutto sta facendo molto storcere il naso ai fans di per la vatiero già nei giorni precedenti diverse fans della salernitana stavano storcendo il naso sul gruppo anziano della casa ossia quelli che sono entrati a settembre pensando che il gruppo anziano della casa stessero usando per la vatiero e quindi i suoi fans come ariete contro beatrice luzzi sospetto che l'attrice romana aveva già palesato da tempo ma a quanto pare adesso c'è di più ossia che il dubbio sta diventando una certezza infatti l'altro giorno in cucina anita olivieri e letizia petris di fatto si sono accordate per mettere in nomination per la vatiero queste le loro parole letizia petris e anita olivieri accordo segreto dichiara anita olivieri che si rivolgeva a letizia petris mentre erano in cucina guarda che io sono sicura che poi io inizierò a toccare anche greta e perla quando altri saranno usciti ma io devo ammetterlo è così per me perché cosa posso fare votare uno di noi devo nominare te o paolo uno di voi al posto di loro due no mi dispiace ma che devo fare io non nomino uno di voi al posto loro perché di ognuno di voi ho visto tutto ma proprio tutto quello che avete passato quando siete stati bene quando siete stati male ci siamo stati vicini cioè io non lo posso fare ma certo io sono veramente d'accordo con te certo ma è normale grazie a tutti